7 novembre 2000, Stati Uniti. Il repubblicano George W. Bush vince le elezioni presidenziali battendo il vicepresidente democratico in carica Al Gore. La vittoria avviene fra mille polemiche dopo 36 giorni di riconteggio dei voti e battaglie legali grazie a una decisione della Corte Suprema. Otterrà la conferma nel 2004 sconfiggendo il candidato democratico Kerry.